Buongiorno ragazzi, e adesso partiamo con i zero pronostici della 33 giornata di campionato di sera Vamos, vamos cazzo, vamos Allora ragazzi, partiamo dalle partite di sabato Genova-Spezia, 1 Pamma-Crotone, X Sassuolo-Sandoia, over E adesso andiamo alle partite di domenica Benevento-Udinese, X Inter-Verona, 1 Fiorentina-Juventus, 2 Cagliari-Roma, 2 Atalanta-Bologna, 1 più over E adesso infine andiamo alle partite di lunedì Torino-Napoli, 2 più over Lazio-Milan, 2 Bene ragazzi, con questo è tutto, vi auguro una buona giornata Iscriviti al canale YouTube e iscriviti anche su Instagram Su Zebra, trattito a basso, bianconera E seguiti specialmente sulla pagina Facebook di Zebra Bianconera Fino alla fine, forza Juventus Buona giornata a tutti ragazzi Ciao 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 Ciao